come ci si lava le mani come ci si lava le mani lavare bene così palmo contro palmo la destra sulla sinistra sinistra sulla destra sinistra sulla destra il pollice l'altro pollice il pollice l'altro pollice con il palmo sfregare il palmo sfregare bene 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 come ci si lava le mani appena finita la quarantena mi piacerebbe andare ad abbracciare tutti i miei amici e anche i miei familiari che in questo periodo non posso vedere la cosa che sto apprezzando di più è avere più tempo più tempo per le cose che mi piacciono di più e più tempo ad esempio per suonare cucinare magari oppure fare dei giochi di società ciao a tutti ecco il mio animale domestico e il mio unico amico della quarantena peggy questo è tutto il mio mondo la mia infermiera mia madre la mia malattia ho 18 anni ma non sono mai uscita di casa se lo facessi probabilmente morirei come ho reagito alla chiusura delle scuole grazie a tutti Buono. Jackie, potresti venire a evitare la data parecchiale? Vai via, non rompere! Grazie per la visione! In questi giorni di quarantena ho legato molto con le mie cugine perché prima della quarantena non avevamo tanto tempo per giocare, parlare e stare un po' insieme per via degli sport e della scuola e invece in questi giorni di quarantena il tempo non manca e abbiamo giocato e parlato molto di più rispetto a prima quando non c'è la quarantena e questa cosa mi piace molto.